buon pomeriggio youtuber mi sono ancora io marco palazzi e da tanto ti faccio un video su tutorial o video su giochi perché ho avuto qualche problema con la scuola visto anche se sta finendo in teoria e oggi come terzo intervisto di facebook vi farò conoscere un altro amico che si chiama ok signora andrea mazzara andrea o vuoi fare per un discorso ok andrea quanti anni hai io ho 12 anni dovrebbe essere in seconda media però è stato bocciato per due volte perché non studiava quindi una volta perché non studiava e quindi è in quinta elementare ok che squadra ti si andrea io io tipo la juve come come me anch'io tipo la juve ai fratelli o sorelle o tre sorelle o tre sorelle cos'è famiglia numerosa siete in tutto siamo sai merda tre sorelle come si chiamano e quanti anni hanno la prima si chiama marilena che ha 17 anni la seconda si chiama maria mazzara che ha 21 22 anni e la terza è mazzara che ha 27 anni merda la 17enne è uguale alla mia stessa età fra la terza superiore ok adesso noi chiediamo ad andrea adesso se chiediamo ad andrea che cosa ha fatto oggi pomeriggio lui cosa ci dirà cos'è fatto oggi pomeriggio ho messaggiato com'è mi racconta tutti gli altri youtuber se io sono molto cattivo molto simpatico molto buono come sono ok adesso saluta tutti youtuber ciao naturalmente andrea non è su youtube cosa no no niente andrea mazzaro non è su youtube quindi adesso io caricherò il video su youtube io sono su youtube e dopo lo potete vedere capito ok ci vediamo più avanti ciao mi raccomando allora un'altra cosa un'altra cosa nei prossimi video tutorial ti farò un po' più seri in questi giorni sto facendo un po' divertenti perché voglio avere molti iscritti su youtube e voglio avere molti visualizzazioni quindi ci vediamo alla prossima ciao ciao